La bandiera dell'Arabia Saudita è stata adottata nella sua forma attuale nel 1973. Essa si compone di uno sfondo verde, colore della religione musulmana, con al centro una spada sormantata dalla Shahada, la dichiarazione di fede islamica che significa «Allah è il solo Dio e Maometto è il suo profeta». Essendo questa una frase sacra, è assolutamente vietato Isara la bandiera a mezz'asta. Inoltre essa compare scritta su entrambi i lati per assicurarne una lettura corretta da qualunque prospettiva. Grazie.